Dopo la sosta forzata a causa dell'ondata di gelo che ha colpito l'intera regione, tornano in campo le compagini del campionato di eccellenza. L'unica gara del diciottesimo turno che non sarà disputata è quella del D'Angelo di Altamura tra i padroni di casa e della Staranto a causa dell'abbondante nevicata che ha colpito il comune Murgiano. Sarà impegnato nell'ostica trasferta di Vieste il Barletta a 1922 del tecnico Massimo Pizzulli. L'aria in casa biancorossa non è certo delle migliori dopo un mercato di riparazione al di sotto delle aspettative e una panchina corta che alla lunga potrebbe essere decisiva. Per la trasferta intera garganica l'allenatore Bitontino molto probabilmente dovrà rinunciare agli acciaccati Lorusso e Dentamaro mentre il Vieste potrà contare il suo ritorno dei fratelli Augelli e un ritrovato entusiasmo per gli ultimi risultati che hanno proiettato la compagine garganica a ridosso della zona playoff. Trasferta sulla carta proibitiva per la Vigortrani che dopo l'importante successo di Vieste il pareggio di Novoli vuole continuare a conquistare punti per avvicinare ulteriormente la zona playoff. Pettinicchio che ha lavorato tantissimo con il nuovo gruppo nonostante le avverse condizioni meteorologiche potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Gli arrivi nel mercato di Cembrino di Tedesco Trotta, La Salandria, Di Candia, Telera, Pinto dall'Occo fanno da contraltare all'entusiasmo sopito della piazza che al momento non sembra rispondere agli sforzi societari. Inoltre la scorsa settimana lo stadio comunale è stato oggetto di atti vandalici. Turno casalingo sul terreno del San Pio di Enziteto per l'Unione Calcio Biceglie che nella prima sfida del 2017 affronterà la vetrana, formazione impelagata in piena zona playoff. Una gara particolare per gli azzurri che oltre all'insidia sosta riserva potenziali difficoltà a livello mentale visto l'imminente impegno della finale di Coppa Italia in programma giovedì 19 gennaio a Gravina contro il team Altamura. La prolungata sosta d'altronde ha permesso al team di Zinfollino di affinare l'amalgama di squadra dopo gli innesti del carciomercato invernale. Per la sfida contro il team Ionico il tecnico Azzurro potrà contare su tutti gli effettivi in rosa.